C'è cosa da dire? C'è cosa da dire? Questa sera non potevo mettere una maglia più appropriata di questa, venga cazzino! Mi ricordo per chi volesse acquistare su internet, temamarrone.net, le maglie, tutto il ricavato di queste maglie che io scrivo appena, si vede, andranno i beneficenzialisti per aiutare i ragazzi che hanno veramente l'esercizio. Napoli! Napoli! E poi non va a fare, voglio!